Penultima giornata in eccellenza, dove i verdetti sono ancora in bilico e probabilmente lo resteranno anche dopo questo weekend. Segnali importanti arriveranno comunque, in particolare dal Girone A, che vedrà sotto i riflettori il match tra Corato e Barletta. I biancorossi, dopo il riposo di domenica scorsa, puntano a ricollocarsi in vetta al campionato, approfittando del riposo della capolista Manfredonia. I neroverdi invece sono con l'acqua alla gola dopo il K.O. in casa dei Sipontini e hanno bisogno di tre punti per rientrare negli spareggi promozione. Oltre al Manfredonia riposeranno anche Trinità, Poli e Mola, rispettivamente terza e quarta forza del Girone. Negli altri match di giornata non si parlerà di play-off. Doppio derby Foggiano in programma, il Real City ospita il Sansevero, mentre il team Ortanova se la vedrà con il Vieste. Chiude la domenica la sfida tra Vigortrani e Uccibiceglie. Nel Girone B, quello che si preannuncia come un turno di transizione, può invece essere problematico per le prime due della classe. Oltre Anto e Martina riposeranno da calendario, fornendo quindi alle inseguitrici l'occasione di avvicinarsi in ottica play-off. L'occasione migliore è per Lugento, la più vicina alla vetta ad avere ancora due match da disputare. La squadra di Oliva sarà impegnata sul campo di Alladeghi per mettersi a meno uno dal secondo posto, per poi tentare l'assalto all'ultima giornata. La Virtus Matino, invece, può effettuare l'aggancio al Martina con una vittoria nello scontro diretto in casa del Maglie, ma riposerà tra una settimana. Ultimissima chance per il Sava, che andrà sul campo del Gallipoli per rimanere agganciato al treno play-off. I giallorossi sono distanti, ma con una vittoria sui Tarantini e qualche risultato favorevole dagli altri campi, potrebbero giocarsi le ultime carte fino alla fine della stagione regolare. Negli altri impegni della domenica, il Massafra ospita il Castellaneta e il Racale se la vedrà con il Gortaglie.